Mandis Lucia, 57 anni. Alla fine mi lamentavo in continuazione perché non riuscivo più a masticare, non riuscivo a sorridere, per cui nemmeno a fare una foto e così sono arrivata qui per il primo step. Presso la clinica del dottor Palmaz ho fatto la riabilitazione totale, entrambe le arcatte, con sei impianti per arcatta. Ho trovato un ambiente familiare, un'accoglienza, mi sembrava quasi che c'era già stata in passato, quindi non ho sentito lo stacco. Ho ripreso a mangiare nel modo giusto e anche i contatti con le amicizie perché avendo delle limitazioni anche nel sorriso, allora mi vergognavo anche a sorridere e quindi era tutto un po' limitato. Sì, sì, certo, anzi mi facevano i complimenti anche per i provvisori e tante persone che ho incontrato mi hanno detto che anche loro vorrebbero venire quando si prospetteranno i loro tempi giusti. Adesso mi sento più tranquilla, mi sembra che mi sia stata offerta una seconda possibilità in tutti i sensi proprio. Riscopro il gusto del cibo che ormai prima ero molto limitata come ho detto prima, per cui è una riscoperta, sembrerebbe quasi tra virgolette una nuova rinascita.